Allerta alimentare europea per alcuni formaggi vegani. Le autorità francesi, si legge sul sito del Ministero della Salute italiano, hanno comunicato attraverso il sistema di allerte europeo per alimenti e mangini RASF notifica 2023 0500. La presenza di listeria monocitogene si informaggi vegani prodotti dalla ditta francese J&J, la segnalazione dopo 8 casi di listeriosi in Europa, verificatasi tra aprile e dicembre 2022 legati al consumo di prodotti vegani J&J. Le date di scadenza vanno sino al 30 marzo 2023. Di seguito i vari prodotti dei marchi J&J. 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 J&J.